Ora di pranzo, oggi il mio pasto libero, raga, perché è una settimana di dieta. Questa sera solo uno yogurt mangerò, perché quando faccio il pasto libero io a cena non c'ho niente, quindi c'ho solo yogurt. Quindi stasera, se riesco, se non sento fame, yogurt. 80 grammi di pasta, perché sono 80? Perché io l'ho cotta a parte, alla carbonara, quindi io me l'ho cotta a parte. Ah no, il riflesso. 80 grammi, se faccio così, il riflesso qua pensavo chissà che... E questo è il mio pasto libero. Come ho detto non faccio più this foundation, mangerò una cosa buona una volta a settimana. Che poi di buono ho mangiato tutto una settimana, comunque vabbè, assaggiamo questa super carbonara. E una volta a settimana mangerò, farò il mio pasto libero solo. In teoria a cena c'ho soltanto yogurt o verdure. Se non sento fame, mangerò solo yogurt. E quindi buon appetito e mi godo il mio pasto libero, raga. Super meritato. Ciao. Ciao. Grazie.